C'è una cosa che Matilde sa fare bene, scrivere. Scrivere non per farsi leggere, tradurre, ascoltare, farsi amare da un vasto pubblico e dalla ristretta cerchia dei letterati, entrare in connessione con gli altri è importante, chi lo negherebbe, ma per Matilde c'è di più. Non è una questione di scrivere per sé o per i lettori e non si tratta nemmeno della perenne disputa tra scrittura diurna e notturna, tra letteratura e giornalismo, belle lettere e parole alla portata di tutti. È una questione più profonda che sin da quando Matilde era ragazza ha a che fare con l'atto stesso della scrittura, con i meccanismi profondi e impescrutabili del suo animo, messi in moto dalle dita sull'Olimpia che anni prima le era stata regalata da suo padre, Don Ciccio Serau. Dove finiscono le mie dita inizia una macchina da scrivere. Aveva detto in tono vizzoso a Edoardo durante il loro primo incontro nella redazione del Capitano Fracassa. Ma la letteratura non è solo un fatto di dita che battono sui tasti, aveva risposto lui. Invece sì, aveva replicato lei. Questo è uno stralcio tratto dall'ultimo libro scritto da Massimiliano Virgilio, Luci sulla città, una inchiesta per Matilde Serau, edizioni Feltrinelli. Un bel libro, davvero un bel libro. Un libro particolare perché è uno storico giallo, un giallo storico. La protagonista è proprio Matilde Serau che Massimiliano Virgilio ha immaginato nei panni anche di una investigatrice. Matilde Serau è sempre il personaggio storico che ricordiamo. Quindi è stata la prima donna a fondare un quotidiano insieme al marito. È stata la prima donna a avere un ruolo molto importante all'interno di una redazione di giornalisti. Ma in questo libro c'è accanto alla solita Matilde Serau, una Matilde Serau nuova, che si trova attraverso un'inchiesta giornalistica a cercare di svelare la verità riguardo all'assassinio di un suo caro amico, un socialista, tale Carlo Montinari. E attraverso il suo cercare, attraverso il suo cercare quindi contatti per giungere a una verità che possa essere corrispondente a quello che è realmente accaduto, ci consente di ripercorrere un periodo storico, la fine dell'Ottocento, a Napoli. Ci sembra di essere anche noi all'interno della relazione del mattino, che aveva sede proprio in questo luogo, la Galleria Umberto I, rappresentata sulla copertina del libro. Luogo ancora oggi considerato il salotto o comunque un luogo molto importante, simbolo della città napoletana. Un libro che ho trovato godibilissimo non solo per la storia che viene raccontata, ma perché induce a molte riflessioni. Le riflessioni in primis sulla Napoli che viene raccontata. La Napoli di quel periodo, una Napoli in cui gli interessi speculativi di alcuni erano in netto contrasto con le reali esigenze del territorio e degli abitanti. C'è poi la narrazione che è molto presente negli scritti della serao, cioè il gioco dell'otto. Infatti nel racconto, nel romanzo Il paese della cuccagna c'è tutta una serie di pagine, un racconto molto particolarizzato dell'otto, considerato dalla serao una vera e propria piaga. E in questo libro è presente anche questo. Come è presente la difficoltà della serao con suo marito e l'amicizia con la divina Eleonora Dose. E quindi si alternano a pagine piacevoli, divertenti, anche pagine in cui c'è una profonda riflessione, come dicevo prima, sulla Napoli di allora, i vizi della Napoli di allora, che non può non riportare a quelli che sono i vizi della Napoli di oggi, raccontati da varie, non solo dalla serao, ma anche da registri, sceneggiatori nel corso del tempo. Un termine ricorre molto spesso all'interno di questo libro ed è sventramento, scusate, ed è proprio quello che si ha la sensazione di percepire e di vedere man mano che la storia viene ad essere raccontata. Una città quindi sempre più privata delle strutture di sostentamento che potrebbero e dovrebbero consentirle di rappresentare quanto più la bellezza di cui è portatrice. Un libro che fa anche riflettere sull'importanza dell'inchiesta, l'importanza del lavoro dei giornalisti, l'importanza di una ricerca della verità che sia davvero tale e che non sia soggetta ad altre logiche. Quindi diciamo che questo è un libro che conserva, per così dire, la gradevolezza di una storia che ha, consentitemelo dire, la genialità di aver utilizzato un personaggio come la Serau per svolgere un'indagine e nel contempo ci pone di fronte a dei quesiti che riguardano Napoli, città ricca di tante cose belle, ma anche vittima di predatori che utilizzano meccanismi che non sono mai cambiati e che purtroppo determinano il suo sventramento. Un libro quindi da leggere che consiglio vivamente è quindi Massimiliano Virgilio, Luci sulla città, un'inchiesta per Matilde Serau. Alla prossima!